Debutto convincente Camila Giorgi nel Guadalajara Open Akron. WTA 1000 con un monte premi di 2.788.468 che si svolge nei settori concreti della capitale dello Stato Jalisco in Messico. Il 31-year-old di Macerata. N. 56 della classifica. Sconfitto per 75-63. In un'ora e 50 minuti di gioco. Lo Sheriff Mayer egiziano. N. 33 WTA e il quattordicesimo seme. Uno è uguale al budget dei confronti diretti. Entrambi giocati quest'anno. Convincitore della Marche in due set nel primo turno 250 di Merida e il 27 anni il vecchio Cairo. Assegnato al primo round di The Madrid 1000. Quando Blue si è ritirato dopo la fine secondo set. Giorgi subisce la pausa già all'inizio del primo set. Ma la riprende immediatamente. Against un avversario che sa come ferire in risposta. Il Blue è costretto a annullare altre quattro palle. Due nella terza partita e due nel quinto. Quindi è lei a non sfruttare tre concessi dallo Sheriff nella sesta partita. Rimaniamo in equilibrio alla dodicesima partita quando Giorgi non perde l'occasione per rimuovere il servizio e il primo seto l'egiziano. L'umore positivo di Camila continua all'inizio della seconda frazione con la Marche che spruzza in avanti il 30. Nella quinta partita cancella due possibilità di tornare al gioco in Sheriff e poi ha fatto un'altra. Pausa. L'egiziano. Tuttavia. Non si arrende nella settima partita a Giorgi. Manca un punto partita bruciando la destra in rete. Nel prossimo Sheriff annulla altre due partite punti volé di il rovescio di Agiziana e la risposta. Lo Long of the Blue si avvicina ancora. Nella nona partita. Il 27enne del Cairo cancella un altro punto di partita con la destra ma poi nella quinta occasione. Complessiva per Giorgi è proprio il contrario per tradirlo. Nel secondo round Giorgi troverà la Cristina Buxa spagnola. N. 87 della classifica tra la Marche e le origini da 25 anni di Moldavia non ci sono precedenti.